Lo scorso anno io mi sono sentita una cittadina felice perché la Costituzione italiana mi tutelava e lo Stato mi garantiva le mascherine che era un diritto alla salute. Queste sono tutte le mascherine che mi hanno dato l'anno scorso assolutamente inutilizzabili, forse buone soltanto per togliere la polvere. Tonnellate di mascherine si sono riversate in Italia, i bambini non le usavano perché sono inutilizzabili, sono troppo grandi e poi non filtrano. Io mi sono attrezzata diversamente, mi sono attrezzata con le mascherine chirurgiche, che quello che non dicono è che le mascherine chirurgiche fino a 5 volte si possono lavare. Io le lavo nella lavatrice normale quando faccio il bucato, poi riempio un pentalone di acqua bollente, spengo il gas naturalmente perché non devono bollire, una goccia di ammuchina, metto le mascherine chirurgiche dentro l'acqua bollente e aspetto che si sterilizzino. Poi ho scoperto che in farmacia esiste questo prodotto, l'Oxygen, io non faccio pubblicità, l'Oxygen è uno spray che si spruzza sulle mascherine FP2, FP3 e su quelle di stoffa, si lasciano ventilare per 15 minuti e le mascherine sono disinfettate. Riflettiamoci.